ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video stiamo per partire per una nuova esplorazione ma questa volta un'esplorazione in notturna non saremo da soli ma saremo con gli amici di scare bugs lascio qui sotto in descrizione il link del loro canale e con teo urbex andremo a visitare una villa abbandonata in mezzo a un bosco molto molto isolata sarà una bella avventura vi ricordo come sempre di lasciare un bel like un commento e iscrivervi al canale soprattutto se non l'avete ancora fatto perché il 90 per cento di voi che guarda i video non è ancora iscritto adesso partiamo e ci vediamo tra pochissimo data l'ora ci siamo fermati in un bar molto e stiamo per prendere due spritz gentil signore si sta facendo due spritz bellissimi belli carichi ci sta dai come ragazzi spritz prima dell'esplorazione secondo me è il top perché notturna non puoi andare molto ci hanno detto che hanno ucciso delle persone in questa casa nel passato allora per calmare un po' strana come cosa ok cheers raga iscriviti al canale e attiva la campanella in modo da contribuire al suo sviluppo grazie ok ragazzi stiamo entrando questo è il cancello l'aperitivo ormai è finito già da un bel po' è buio totale dobbiamo fare un pezzo di strada in mezzo al bosco per raggiungere questa villa sta anche piovendo quindi non c'è nulla a nostro favore sta piovendo c'è un buio totale e basta peggio di così ragazzi non si può ci vediamo tra poco dopo una camminata in mezzo al bosco siamo arrivati ovviamente è buio totale non vi posso neanche prevedere la villa perché non si vede guardate non si vede un cavolo ragazzi quel poco che vi possiamo far vedere questo cioè la casa si intravede nel buio esce fuori dall'ombra ma è veramente tetra cupa ed è una giornata pessima il giorno giusto l'ingresso è questo ragazzi come vedete è tutto aperto adesso ragazzi entriamo vediamo cosa ci aspetta daia raga stiamo entrando caldaia tanto vecchia questa caldaia che tra l'altro non è ancora chiusi c'è roba abbastanza recente ragazzi quasi il forno cioè smeg c'è tra l'altro anche di marca non è non è molto vecchio comunque vedi qualcuno c'è stato dei bicchierini sì bicchierina questa merda vecchia quella è recente però un caffè si qua saranno venuti a fare un po' di cazzate ma è freddo è birre queste sono ma non sono scadute non ci credo guarda se sono scadute no 24 11 24 non sono scadute ma qua siamo venuti a far festa sicuramente aspetta vuol dire che magari c'è qualcuno c'è però scusa non venuto un cazzo che ero frequentato cioè abbandonato abbandonato sono venuti in carta e sembrava solo da urbex stiamo entrando c'è qualcuno eh ci sta cosa io e te voglio averci venuto queste dire ma da un te che cazzo dai 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 una figata dici ascolta ma saranno magari che cazzo non so capito che non sono scadute però guardami che cazzo di posto stanno che fa schifo è vero e tu poggi le labbra su quella merda dai lasciale lì dai sì è vero dai iniziamo da qua facciamo tutto il pian terreno se riusciamo madonna ma guardate i muri cazzo si l'intonaco è caduto l'intonaco ma deve essere qualche animale ragazzi siamo in mezzo al bosco ci sta quel animale selvatico la piantina ma c'è che nome e cognome si vi giuro incredibile e vedi facciamo arreddamento ma si è proprio come l'hanno arreddata è vero si comunque c'è tavolo divano salotto con il tavolino con tutti quei posti sembra quasi una sala fissi una stufa a legna penso sia questa fissi una stufa a legna penso sia questa fissi una stufa a guardate quanto è bella ma è un mezzo busto non siete stati voi io ho sentito vabbè per favore dai guardate c'è il tappeto ancora c'è la passarella ma cazzo a quest'ora pure non ci credo comunque ragazzi c'è questo mezzo busto qua solitamente nelle case vecchie il mezzo busto era c'è solo faceva cosa fate ragazzi qua c'è qua c'è un baule antichissimo mamma mia ragazzi apriamola e oddio baule che avrà cent'anni c'è un super tele quindi una donna ragazzi guardate non so se vedete la telecamera ragazzi simens milano cioè spettacolare dai bellissimo è addirittura ragazzi c'è incredibile c'è il numero di telefono segnato è fighissimo comunque ragazzi guardate che scalinata non so se dal video si vede spero di sì ma c'è tutta una scalinata in legno come vedete chi va su al secondo piano è stupenda e sulla scala c'è tutto un tappeto verde come vedete che fa da passarella bellissima proseguiamo di qua diciamo che per i miei gusti non è iniziata al massimo questa questa esplorazione galleria toriga è la torina galleria toriga è la torina non la conosco sinceramente perché abbiamo trovato dentro questa guida del touring club a parte questa bellissima cartolina scritta c'è la teleprofessione quella ma c'è l'anno francobollo secondo me è degli anni 20-30 c'è scritto 35 35 ecco qua 20 maggio 35 20 ma mamma mia cioè 20 maggio 35 è una data che particolarmente mi tocca sì davvero non vado oltre però è una data che mi tocca particolarmente cioè 35 ed è stupenda anche questa cartolina monumento ai caduti spettacolare qua a casteggio facendo il touring club guarda ci sono pure degli appunti mamma mia incredibile ragazzi pezzo di santo agostino guarda lorenz è stupendo questo cos'è? è un biglietto di ingresso a qualcosa cos'è? è numerato è bellissimo e ne abbiamo trovato una altra di questa famosa galleria d'ore è bellissimo non ci aspettavamo cioè c'è tutti gli appunti evidentemente il club touring una volta lo facevano eccolo galleria d'ore ma io l'ho già sentita pan film pan film lire tre ci sono da ragazzi tre lire non c'è qualche anno qualcosa ma anche questo sarà roba tipo anni 30-40 sono anche belli che erano mamma mia è bello trovare nonostante tutto la casa comunque non si è messa benissimo però trovare ancora queste robe qua questi libri così vecchi e qua come vedete c'è un camino antico molto bello c'è tutto lavorato guardate a parte che questo è tutto marmo c'è questo è tutto marmo lavorato c'è addirittura c'è un tronco guardate anche dentro il camino c'è questa questa non so come una sorta di targa in metallo che rappresenta un uomo con un martello in mano che batte un inculine c'è assurdo dentro il camino qua c'è un libro antico le painture japonese parla di dipinti giapponesi credo si roba del genere comunque bellissimo qua abbiamo una poltrona qua c'è addirittura un armadio a muro vabbè non è rimasto nulla dentro c'è un tavolo che è fenomenale materiale e legno perché come vedete qua ci sono tutti i segni dei tarli qua c'è un divanetto mamma mia ragazzi è stupenda e qua in mezzo cioè qua in mezzo questo una volta era uno specchio cioè ovviamente adesso è pieno cioè è super sporco è e quasi non si capisce ma è uno specchio qua dall'altra parte della camera ci sono vari mobili smontati qua c'è un tavolo e qua ancora un un armadio a muro che probabilmente è una libreria ci sono ancora dei libri antichissimi dentro vediamo se riusciamo a capire di che anno è questo libro cioè ragazzi questo libro c'è 1856 più di cento anni cos'è? non so cornello nipote vite degli eccellenti capitani ed è 1800? si guarda pensa un po' sembrano molto vecchi 1856 cioè ragazzi c'è quasi 150 anni c'è quasi 150 anni sta roba è ancora qua cioè è incredibile ma tutto qua è vecchio cioè questo è questo è uno dei più recenti 1924 il castagno aprilo aprilo in francobollo questo magari vale 2000 25 febbraio 1940 in piena seconda guerra mondiale qua ragazzi ci sono due sedie in bambù proseguiamo di qua anche qua ragazzi ci sono un sacco di libri per terra cioè è cioè è un peccato perché questi sicuramente una volta erano messi tutti bene negli scatoloni qualcuno è venuto ha fatto un macello però è un peccato perché comunque sono tutti libri vecchi l'alla romano le parole tra noi leggere delle scale che vanno al piano di sotto saranno o le cantine sotterranei avevamo detto che eri tu però in notturna è la prima volta ragazzi allora ci sono le classiche cantine già di qua nel sottoscala vediamo un'altra prima di qua perché trovi? abbastanza vabbè qua ci sono delle piastrelle guarda le chiavi qua è una sorta di di cantina dove tenevano i vini probabilmente però guarda cioè guarda questi scarichi sono già in plastica sono gli scarichi che abbiamo noi a casa questi sono quelli nuovi assurdo non capisco continua di qua è fatto in modo strano sta cantina aspetta non l'ho capito neanche io mi ha fatto il giro così ecco ma noi siamo scesi di qua sì 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 mi la devo andare a vedere allora finisce così proprio invece qua ma no cioè qua sono degli scaffali anche qua sono tipo scaffali no qua di più estrella sì sì è piccolo non c'è vino però non ci sono tutti no non ci sono cazzi perché ci sono gli scarichi così nuovi decessi sì ok vabbè raga saliamo al mio su raga qua c'è un bagno che cioè ci rispetta tutto il resto della casa è molto più moderno cioè guardate lo scarico ha uno scarico a muro i sanitari la vasca da bagno lavandino con lo specchio ma tutto questo è molto più recente rispetto a tutto il resto della casa cioè guardate che differenza da questo bagno c'è un bagno dove c'è solo un un vc diciamo ma è veramente vecchissimo ragazzi c'è spero si vede dal video perché c'è una sorta di salotto cioè qua c'è una cucina a gas vecchissima e qua c'è un divano un divano delle poltrone un altro divano e questo è un mobile che penso sia un guardaroba guardate qua ragazzi il soffitto come è messo in uno stato a dir poco pietoso no ok questa porta collega con la cucina dalla quale siamo partiti ma raga sono io stavo dicendo che c'è piove tantissimo sta piovendo a dirotto bello sarà una cosa positiva per l'uscita devo dire ragazzi qua addirittura c'è ancora un tappeto che fa da passerelle dell'epoca qua abbiamo una macchina da cucire cosa no singero qui ragazzi dentro questa porta siamo nel sottoscala e qua c'è nel sottoscala è stato ricavato un bagno c'è il bc qua quel che resta del lavandino qua ragazzi sul suo tavolo c'è credo sia un salvavita che comunque rispetto alla casa è molto più recente addirittura c'è una una lampadina a risparmio energetico quindi questo mi confonde un po' sul sull'anno dell'abbandono di questa casa cosa volete fare raga? vogliono bere la birra ma quella che avete visto in frigo prima vogliono prendersi una bella diarrea ma no dai vabbè che non è scaduta però voglio dire scrivete nei commenti se dobbiamo bere la birra oppure no i pirati della Malesia il tuo atomato i pirati 1930 anche questo il libro dei pirati i pirati della Malesia apriamo una pagina certi ricordi sono tremendi anche per una tigre eh? ok raga questo è il libro insato comunque raga incredibile che in una casa così vecchia in questo stato cioè ancora sono rimasti dei libri intatti cioè qua parliamo del 1882 raga non è che hanno dieci anni sti libri come 1882? 1882 non sto scherzando c'è roba che è rimasta intatta cioè qua dopo tutti sti anni nord centro sud africa cioè pazzesco apriamolo rivista di geografia economica mai sentito geografia economica sinceramente elenco dei nuovi sud soci ordinari società di esplorazione commerciale in africa dai Lawrence non ci credo alla fine le hai prese ma va che non sono scadute però voglio dire vabbè le pulisco un attimo qua adesso ma sono tutte e sono tutte 1124 effettivamente non sono scadute sono un po' polverose dai lo facciamo sono tutte 1124 la scadenza non sono scadute no sono chiuse nell'alluminio facciamo per per i nostri fogli scrivete nei commenti capite che cagate che stiamo facendo stiamo bevendo delle birre cioè non scadute però abbiamo trovato prima cazzo di casa abbandonata prima la bevete sono di qualche uro per spie e le ha lasciate qua sì vabbè ovviamente non so cose vecchie qualcuno che è venuto qua a fare qualche cagata ha lasciato ste birre qua e ci sta dai le beviamo per voi raga commento like ma io solitamente non bevo tantissimo però ragazzi se volete che chiedere dei vari soccorsi eh tu non bevi pulisci io l'ho già pulita per me l'ha pulita bene la Peroni oggi la Peroni è abbandonata iscrivetevi dal canale poi la Peroni è proprio la birra dei tossici secondo me sì poi oltretutto con questi guanti puliti noi li apriamo secondo me qualche povero Barbone ne ha bollati qua che cazzo stiamo facendo a sto punto raga cheers cheers grazie alla vostra la nostra la nostra e io li guardo saluti a tutti i follower che ci stanno guardando mamma mia che schifo a parte che è caldissima no è fredda no è fredda no è calda la mia è una pisce fa un po cagare sbaglio la rete è ok l'abbiamo persa ma sbocca ma sbocca c'è la faccia da sbocca mamma mia raga secondo me ha preso un po ma siamo sicuri che buona sta roba c'è un sapore molto di latina ma dai dire sarà lì che a micchia sta andate componendo che schifo però raga non è scaduta cazzo è chiusa ho capito ma guardando penso ma non convinti ma vabbè devo indifferente proprio ha bevuto di peggio ma lui micchia si mangerebbe pure lo specchio che c'è là sicuro non so se lasciarla nel video questa scena che dici sta caricando saltella teo vi racconti lui è smazzato con tutta la bella la mia birra è finita ma sono correttino lorenzo cosa hai trovato? sai cos'è questo? no cos'è? questo questo è il tipico lenzuolo per fare del torero vaffanculo stasera questo video è andato proprio oltre ogni immaginazione insomma quanto sarà vecchia sta cosa ma non capisco che sta pagina che è più incollata ma tutte sono incollate anche quella tutte ma non è incollata è proprio fatta incollata c'è perché ragazzi non capisco le altre invece no sono normali anche le altre guarda sono tutte unite no c'è non ha senso sta cosa cioè sono curioso ma davvero non fatemi capire perché una volta facciamo questi libri con le pagine incollate l'una con l'altra c'è una seghettatura niente sono unite c'è completamente ok ragazzi adesso stiamo salendo al secondo piano giusto ma si raggiungiamo gli altri è bella questa scala ragazzi assurdo cosa hai trovato sono saliti prima di noi da loro ragazzi mamma mia ragazzi c'è incredibile la stessa cosa perché perché hanno messo questo ma poi questo lampadario non ha senso madonna il lampadario è una stella se guardi l'ombra del lampadario sembra una mezza chiudata è una stella guarda anche quel quadro ma poi è stato squartato da qualcuno squartato per tirar fuori poi la lana diciamo che c'era dentro cioè questo letto avrà al minimo cent'anni c'era roba di cent'anni fa questa roba ma sì fotografica sembra cioè pazzesco il letto degli ebrei qua dentro il comodino c'è per il vaso da notte dici per fare la pipì pipì e cacca dite? eh certo ci può stare perché nel comodino a fianco al letto ci può stare ed è strano io per un attimo torno indietro nel tempo e dico vi immaginate l'ultima persona che ha dormito su questo letto e ha fatto il suo bisogno notturno è assurdo c'è sta cosa mi mette i brividi letteralmente chiudi perché mamma mia vieni da leggere ragazzi sono due bare sono due bare ma assurdi sono troppo così divisi ma guarda ragazzi mamma mia i giornali qua che schifo sotto al materasso sempre è per l'umidità ma guarda quanti l'umidità materasso aveva che 1, 2, 3, 4 materasso questo è un martingegno no storico che serve tieni check un attimo adesso non mi ricordo come funziona tiri 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 accende la luce per alzare e abbassare la luce assurdo ragazzi per cambiare la lampadina e poi ah ok dici che serve per quello per cambiare la lampadina sì sì e poi però adesso non funziona di solito quando alzati così si vabbè adesso è troppo alto sì una lampada ha un lampadino in contrapeso sì praticamente qualcosa bianco è il peso il mano che tu fai si scorre per la carrucola decidi l'altezza della lampadina quindi si deve cambiare avvicinare la luce o alzarla con questo lo fai assurdo scatoloni pieni di mamma mia di libri libri ancora libri allora memorie cioè per curiosità ragazzi lo devo aprire editore editore mondadori memorie mamma mia ragazzi c'è parliamo di libri veramente antichi 40 lire luglio dicembre 1914 c'è assurdo anche qua ragazzi sono scatoloni scatoloni pieni di libri antichi cioè ragazzi anche qua c'è il letto è pieno di scatoloni e ogni scatolone è pieno di libri è assurdo cioè è una cosa incredibile cosa è questo? un coltello di legno dai ma cosa serviva? che cavolo serve un coltello di legno effettivamente ma c'è anche il tagliere sì esatto cioè probabilmente era una cosa ornamentale mai visto questa cosa? anch'io c'è un lumino un lumino ma questo cos'è? è un vestitino di una bambola spero ma sì di un neonato appena è piccolo è grosso come una mano però c'è anche un cucchiaio questo cos'è? un lumino un bicchiere o un porta lumino non lo so vai chiudiamo il passaggio è assurdo questo vestitino qua è molto inquietante ma guardate qua mamma mia impressionante però c'è una brutta notizia questi sono sigillati sono chiusi non sono mai stati aperti? no c'è assurdo ragazzi c'è questa libreria ora almeno a 60-70 anni non è mai stata aperta da nessuno mamma mia ragazzi questi sono la collezione quella prima mamma mia c'è assurdo assurdo sicuramente hanno un valore proprio ah sicuramente hanno un valore perché voglio dire oltretutto guardate ragazzi c'è qua c'è una poltrona qua un altro divano qua ragazzi c'è un'altra camera e c'è allora un grosso armadio qua ma che cavolo c'è qua dietro cioè si va dietro cioè c'è l'armadio che divide due camere praticamente oddio raga ma anche qua questa è un'altra camera da letto c'è un letto simbolo qua ancora qua c'è la bajur qua abbiamo un armadio a muro e dentro ci sono dei prodotti per la pulizia to cos'è successo? vieni un attimo che cazzo è sta roba raga un gatto morto porca troia no dici un gatto questo? si si la coda oddio è mummificato c'è l'ombrellone è proprio sopra eh prova di essere mamma mia cioè questo poverino è venuto qua a morire evidentemente oh che cazzo è stato oh porca puttana lo avete sentito io ho sentito un rumore ma è lì ehi porca troia raga dai veramente cazzo dite c'è raga c'è qualcuno raga no cazzata abbiamo fatto una cazzata io per la voglia tutto all'inizio e qua c'è una qualcuna anch'io ero titubante a venire qua dentro sinceramente cosa? anch'io ero titubante a venire qua dentro no ma infatti ma abbiamo fatto una cazzata andiamo questa c'è qualcuno che ci sta mandando via c'è qualcuno che dorme qua dice non lo so spero di sì c'è qualcuno oh raga che palle raga però io non volevo trovare in situazione non funziona mai c'è che cazzo non è certo che ti faccio una volta questo non è certo che ti faccio una volta lorenzo torna qua immediatamente subito subito ragazzi cioè piuttosto andiamo tutti insieme si apriamo la porta insieme oh raga siamo in quattro c'è voglio dire io vado vado ormai tu me l'ho trovata da qua aspetta aspetta andiamo insieme piuttosto aspetta un attimo aspetta aspetta non ci credo la porca troia aspetta questa roba non ci sta dicendo di andarcela vuole che gli svecci andiamo ma devo farlo cosa ci manca una stanza l'avranno vista tutti raga la cazza per metà dai stop sarà qualche barbone che cazzo ne so no cazzo c'era troppo c'erano le birre sarà qualcuno oh levati dai coglioni stronzo gli avete pure potuto le birre raga gli avete un po' che le birre noi l'avamo detto non bevetelo perché ci siamo per poterle le tue birre dai raga per favore dai apro io raga mi sono rotto il cazzo veramente vaffanculo cazzo mi sono delle scale che vanno su raga non ci credo ascolta abbiamo un canale youtube stiamo semplicemente facendo un video non stiamo malintenzionati non stiamo pinnando un po' ehi no no questi sono a dove i pantaloni sono scosti no no questi sono recenti raga ehi sei sopra davvero non ti vogliamo fare niente però ci hai fatto pigliare un infarto ci hai fatto pigliare un infarto stiamo facendo delle foto ma vivi qui cioè raga qua qua ci sono dei pantaloni recenti questa è una roba vecchia sono sposti di vernice che cazzo è oh dio che cazzo è cos'è una cosa è un orecchio di magia ma che cazzo è lì è un orecchio è un orecchio di magiale che no no dai ma che cazzo è mi vedo a sboccare che schifo ma è vera sta roba si è vero ci sanno non ci fanno riprendere non ci credo ma è vero non ci credo raga togliermi non toccarlo è un brutto segno è un brutto segno raga io ho sentito di una roba decine che è un gesto mafioso io l'ho visto fare in un locale in Svizzera io lo facciamo il palista una volta e avevano fatto trovare dopo una serata una testa di maiale tagliata sotto uno dei tavolinetti ed era stato un gesto proprio di offesa e come dire di intimorimento verso il proprietario appendere un orecchio di maiale in quel senso vuol dire proprio come non lo so qualcosa di morta una cosa che ci vuole non lo so una minaccia si è una minaccia bravo ma è vero se non ci credo davvero ma perché se chissà che cazzo magari c'hai mai visto ma c'è il cirume io me ne vado mi sono rotto il caldo no dai io me ne vado raga cioè mi sono tutti i coglioni raga io non so qualche cazzo c'è stato ma i primiti qua ci hanno fatto una festa e questo un messaggio qualche cosa sto faticando a crescere sopra raga il tipo è sopra finca me ne siete resi conto perché se no venite con noi aiutateci per voi il tipo è sopra sopra non non cioè non dai raga non ho parole ehi sto salendo mi spacchiamo la testa c'è come troppo una rica di maiale dentro un armadio no merda 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 è andato qua dentro sicuro guarda che cazzo è sto è andato dentro no no andiamo secondo me è lì dentro è per forza è lì dentro lorenz sei qui dentro stronzo il giga è entrato qua per forza ci sono pure guarda sulle assie cioè qualcuno si è appena combinato sono le impronte andiamoci andiamo 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 sotto andiamo sotto scendi 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 non si sa mai non si sa mai scendi scendi forca broia che cazzo vuoi alzati dai ecco scendi forca broia fuori 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 raga ho visto una luce fuori ho visto una luce fuori merda merda scendi 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 ma no le abbiamo fottuto ma andiamoci nel viaggio di prendere il vento porca troll sono spariti le ventre porca troll le ventre sono qua non ci sono le ventre veo 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 andiamo dove cazzo era uscita la mano